Nuovo appuntamento con i libri, con i nostri consigli di lettura direttamente dalla libreria Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal Santuario di Santa Maria delle Grazie. Un libro che abbiamo presentato già più volte, ma che è sempre bello ritornare a presentare. Mandami il tuo Angelo Custode, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, firmato da Fra Alessio Parente, in cui appunto vengono raccolti tanti episodi della spiritualità del Santo di Pietrelcina, però appunto legate a questa figura meravigliosa che è l'Angelo Custode. E' un libro che ci aiuta anche a capire a chi ci rivolgiamo quando recitiamo la tradizionale preghiera dell'Angelo di Dio. Pagina 112, leggiamo un episodio legato alla vita del Santo di Pietrelcina, racconta Fra Alessio Parente. Un giorno, mentre ero seduto al suo fianco sulla veranda, il suo fianco è quello di Padre Pio, vicino alla sua cella, verso le 2.30 del pomeriggio, quando tutti i frati ormai si erano ritirati nelle loro celle per il regolare momento di silenzio, prima di riprendere la preghiera del Vespro, e attorno non c'era un'anima viva. Vedi Padre Pio che con la corona del Rosario, come sempre, recitava la preghiera mariana. Attorno a lui c'erano una calma ed una pace così intense che mi sentì incoraggiato ad avvicinarmi per rivolgergli alcune domande. In quegli anni di solito ricevevo molte lettere di persone che chiedevano un consiglio di Padre Pio su qualsiasi problema. Egli del resto sapeva questo, perché non solo io, ma anche altri confratelli, facevano da intermediari tra lui e i suoi figli spirituali, specie quando la risposta da dare chiedeva il suo espresso consiglio. Il momento mi sembrava buono per scambiare due parole con lui. Mi avvicinai aprendo una lettera e rivolgendomi a lui con molto rispetto, dissi Padre, la signora B.R. vi chiede un consiglio sul lavoro. Ha già una buona occupazione, ma un'altra ditta le sta offrendo una migliore possibilità insieme ad un salario più elevato, il che le garantisce una vita migliore. Che cosa devo fare? Con mia grande sorpresa non dette risposta, ma con tono di rimprovero aggiunse Sì, figlio mio, lasciami solo, guaglio, non vedi che ho da fare? Confesso che ci rimasi male. Strano, pensai tra me. Si mette seduto a sgranellare il rosario e dice che ha da fare. Boh. E mentre in silenzio era ammaricato per come aveva liquidato me e la mia domanda, ero chiuso in me stesso a pensare sul suo strano da fare, per niente convinto che fosse vero che avesse da fare se non recitare il rosario, operazione che poteva sospendere, rimandare e che oltretutto non richiedeva tanta fatica, il padre si rivolse a me piuttosto corrusciato con queste parole. Non hai visto tutti quegli angeli custodi andare avanti e indietro dai miei fili spirituali a portarmi i loro messaggi? Non sorpreso delle sue parole, quasi con indifferenza, replicai. Padre spirituale, io non ho visto proprio niente, neppure un angelo custode, ma vi credo, perché voi consigliate ogni giorno la gente di mandarvi i suoi angeli custodi. Poi il colloquio proseguì su ciò che io sottoponevo alla sua attenzione. Fu molto paziente, gentile e paterno. Dopo riprese la corona del rosario tra le mani e forse ritornarono gli angeli. A sera si ripresentarono in mente le parole di padre Pio, la veranda e il rosario. Quella veranda, pensai, che luogo sacro. Bisogna chiamarla la veranda degli angeli. Già, forse, più che padre Pio, si scocciarono gli angeli per le mie domande. Già, ma gli angeli si arrabbiano e si sono arrabbiati con me. Meglio non pensarci, meglio dormire. Le troppe domande mi facevano perdere tempo. Quelle difficili, poi, mi facevano apparire più ignorante di quello che già sono. Scrive Fra Lessio Parenti in questo libro meraviglioso, intitolato Mandami il tuo angelo custode, dove troverete tanti altri episodi appunto legati alla vita di padre Pio e a queste straordinarie creature che sono gli angeli custodi. Edizioni padre Pio da Pietrelcina. E oggi vogliamo parlare di un libro che sicuramente non è recente, anzi di qualche anno fa. Però la protagonista di questo libro è Wanda Poldaska. È una donna polacca, medico, moglie, madre, legata a doppio filo con padre Pio e Giovanni Paolo II perché è stata miracolata grazie all'intercessione di padre Pio che appunto ricevette questa richiesta da un sacerdote polacco, Karol Loetiva, di aiutare questa donna malata, madre di famiglia. Wanda Poldaska ha scritto anche un altro libro intitolato Diario di un'amicizia in cui racconta l'amicizia fortissima, il legame con Giovanni Paolo II. Wanda Poldaska, classe 1921. In questo volume E ho paura dei miei sogni, i miei giorni nel lager di Ravensbruck, edito dalla San Paolo. Wanda Poldaska, questo volume appunto venne scritto nel 1945, pensate, subito dopo da il ritorno dal lager di Ravensbruck. Straordinaria testimonianza di vita nel campo di concentramento dove la giovane Poldaska venne sottoposta a disumani esperimenti medici. L'opera è indispensabile per comprendere poi il diario di un'amicizia, appunto come vi dicevo, edito dalla San Paolo nel 2010, dove l'autrice racconta la sua amicizia con Giovanni Paolo II. Insieme, questi due libri narrano la storia di una vita, testimoniano della capacità di resistenza della Polonia, spiegano il senso di un'amicizia più forte della morte e di ogni crudeltà. Un libro molto forte, sarebbe difficile, come dire, scegliere un episodio per poterlo raccontare, però leggo un passaggio dalla prefazione. Ho scritto questo libro di memorie, scrive Wanda Poldaska, sul campo di concentramento tra il giugno e il luglio del 1945, immediatamente dopo il ritorno a casa. Fino al gennaio del 1961, quindi per quasi vent'anni, è rimasto nel cassetto, non era destinato alla stampa. Era invece nato da motivazioni ben diverse, che è forse necessario spiegare per poter, almeno parzialmente, chiarire le modalità molto personali dello scritto. «Feci ritorno a casa il 28 maggio del 1945, dopo un viaggio durato 20 giorni. Già dalla prima notte provai qualcosa di terribile. Giorno dopo giorno, meglio notte dopo notte, sognai Ravensbrück. I sogni assunsero una vivezza e una plasticità inafferrabile, al punto che non potevo distinguere se si trattasse di un sogno o di una prosecuzione del lager. Nel lager sognavo molto raramente di casa e i risvegli erano sicuramente tra le esperienze più drammatiche. Dopo il ritorno, invece, tutto si capovolse. Ero a casa e sognavo del lager. Tornavo sempre a sognare gli stessi giorni, un giorno dopo l'altro, senza fine. Mi era difficile, tanto difficile, capire come in una notte si potesse sognare tanto. Rindiavo il sonno per quanto possibile. Peraltro non parlai con nessuno di questo. Pensai a lungo se ci fosse qualcuno a cui poter parlare di questo. Esitavo però a confidarmi con i miei parenti, tanto più sapevo che la mia detenzione aveva già dato loro tante preoccupazioni. Il 23 giugno, il giorno del mio primo nomastico a casa, c'era da noi una grande quantità di persone, un mare di fiori. Verso sera venne da me un'anziana e cara signora che era stata la mia insegnante. Le dissi che non riuscivo proprio a capire come mai io ero sopravvissuta al lager. Io che appunto ero sopravvissuta in questo luogo non potessi ora sopportare i miei sogni. Questo fatto mi sembrava normale. Quel giorno non mi rispose, ma tornò dopo qualche giorno per dirmi che lei sarebbe andata da uno psichiatra, suo conoscente, un uomo già anziano, per chiedergli un parere e che avrei dovuto raccontare a qualcuno di cui avessi fiducia tutto ciò che là era accaduto. Avevo fiducia di molte persone, ma nessuno volevo raccontare del lager. Accennai di no con il capo. Non andava bene, era impossibile che io potessi parlare con qualcuno. E la donna, la sua anziana insegnante, l'insegnante di Vanda Poldasca, disse dopo una pausa di riflessione non c'è bisogno che tu lo racconti a qualcuno. Prova a mettere tutto per iscritto. Forse questo potrà aiutarti. Da prima non lo feci, ma poi più tardi una notte, quando di nuovo fui presa dalla paura per i miei sogni, scrissi. Scrivevo solo di notte. Così poi, dieci anni dopo quel giorno, decise di scrivere questo libro. Dopo quindici anni, si convinse a darlo alle stampe. Un libro molto forte, molto intenso, e ho paura dei miei sogni, edito dalla San Paolo, firmato da Vanda Poldasca. E concludiamo con un libro di storie, uno dei tanti libricini, la collana Piccole storie per l'anima, edito dalla LDC, intitolato E c'è ancora qualcuno che danza. L'autore di queste storie è naturalmente Bruno Ferrero. Voglio leggervi una storia che riguarda, ha una morale molto breve, ecco, proprio due righe di morale. Per eliminare il male dal mondo basterebbe decidere di non essere mai noi la causa. Leggiamo questa storia che si intitola Dopo la rapina. Il professor Matthew stava rincasando dall'università, quando a pochi metri da casa sua si trovò davanti una canna di pistola puntata contro gli occhi. Dietro alla pistola c'era un rapinatore con il volto coperto che gli intimò di consegnargli borsa e portafoglio. Lo fece, il rapinatore si dileguò rapidamente nell'oscurità. Ancora spaventato naturalmente della spiacevole esperienza, quella sera si sedette alla scrivania e schisse questa preghiera. Signore, oggi sono stato derubato. So che devo ringraziarti per molte cose. Per prima cosa ti ringrazio di non essere mai stato rapinato prima e in un mondo come questo è quasi un miracolo. In secondo luogo voglio dirti grazie perché mi hanno portato via solo il portafoglio che come sempre conteneva solo pochi spiccioli e una vecchia borsa piena di carta. Ti voglio ringraziare anche signore perché non c'erano con me mia moglie e mia figlia che si sarebbero molto spaventate e anche per il fatto che ora non devono piangere per me. Infine, signore, voglio ringraziarti in modo particolare perché io sono stato il derubato e non il ladro. Una bellissima storia che davvero non ha bisogno di commenti. Una delle tante riportate in questo libro di Bruno Ferrero e c'è ancora qualcuno che danza. Con questa storia e con questa segnalazione vi vogliamo ringraziare per averci seguito anche questa settimana e naturalmente rinnovarvi l'appuntamento alla prossima Contra le righe.